Buongiorno, sono Marco, ho 42 anni e oggi andrò a ricevere quello che è l'incarico di vicepresidente del mandamento del miranese dell'Api Industria di Venezia ed è un incarico che ho accettato di buon grado perché reputo che l'operato dell'Api Industria sul territorio è molto importante anche perché ho scoperto un gruppo di giovani molto attivi che si propongono sul mercato in maniera decisamente molto positiva e molto profittevole per le aziende pertanto ho deciso di partecipare effettivamente a questo progetto portando sul territorio quelle che sono le necessità che piccole imprese come la mia hanno bisogno per esempio sul discorso dell'accesso ai bandi, sul discorso della formazione, sui corsi di formazione interprofessionali e quant'altro quindi sicuramente reputo che sia importante un'attività di questo tipo quindi ho deciso di mettermi in prima persona con il gruppo di consiglieri che da oggi costituiranno questo nuovo mandamento sul miranese perché ripeto sviluppare le aziende del territorio è sicuramente una cosa lodevole quello che sta facendo appunto l'Api Industria però ha bisogno di risorse sul territorio che possano in questo modo estendere la loro mano operativa sulle aziende del miranese pertanto siamo qui più carichi e convinti che mai che questo sarà un progetto molto importante per il tessuto economico e anche sociale del miranese perché c'è molto da fare e stringere nuove lanze tra le imprese del territorio sicuramente attraverso questo nuovo strumento di fondamentale importanza sia per noi imprenditori che per la popolazione che per il territorio stesso quindi sicuramente impiegheremo il nostro tempo nel miglior modo possibile per poter far sì che questo progetto abbia un seguito positivo per tutti questo è un po' il messaggio che cerchiamo di passare oggi e che vogliamo praticamente portare avanti con questo progetto che oggi prenderà vita qui a Santa Maria di Sala